Basta, basta! No, dai, ci andiamo a portarci un po'. Pezzo due, ma dai pezzo due, eh? A tre, a tre. Allora, chi è chiamato? Non puoi farne no, eh? A tre. C'è quello piccolo... Ma dove? Fabio? No, 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 no. Vieni, amore, vieni, vieni! Vieni! Ahah, lasciamo! Ahah, lasciamo! Come calls... Mamma... 是 Camilla! Va, tu, no, no! Grazie a tutti. 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 4, 3, 2, 1... Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Buongiorno.